Cari telespettatrici, cari telespettatori di Rossini TV, buongiorno a voi, lunedì 19 febbraio siamo ancora qui negli studi di Via degli Abeti, il sottoscritto è Andrea Marcelli dalla regia che vi diamo il benvenuto in questa nuova settimana, la penultima di febbraio, l'ultima intera di questo mese che è il più breve dell'anno ma che come sappiamo quest'anno avrà 29 giorni e proprio sull'inaugurazione del nuovo Palace sarà l'articolo principale del Corriere Adriatico, inaugurazione che dovrebbe avvenire il 29 febbraio, cioè il giorno in più ricavato ogni 4 anni per ridare omogeneicità al calendario. La prima annotazione sulle previsioni meteo grazie al sito di Trebi Meteo che ci fa vedere come oggi le temperature saranno comunque gradevoli, si attesteranno intorno ai 12 gradi nell'ora di pranzo verso le 12 verso le 13, non ci saranno particolari problemi, annuvolamenti molto leggeri, farà capolino il sole durante la giornata, quindi una giornata come già definita da tanti pre-primaverile, vedete questo sarà un pochino su tutta la regione con particolare riferimento soprattutto all'area costiera ma non ci saranno precipitazioni, quindi una bella giornata nella regione Marche. Le locandine che abbiamo fotografato per voi, velocemente ve le illustriamo, entrambe ci raccontano della vittoria della Vispesera e poi abbiamo la nostra webcam che è posizionata al Pincio di Fano, quindi in questa bellissima zona della città di Fano, nei pressi dell'Arco d'Augusto, uno dei punti più caratteristici della città della fortuna. Lunedì, lunedì i giornali sono stringati, soprattutto il resto del Carlino. Partiamo come sempre dal Corriere Adriatico che ci propone questa notizia che riguarda in primo luogo la doppia apertura del nuovo Palace. Il sindaco Vice Vimini dice che la prima sarà il 29 febbraio per il compleanno di Rossini, poi il 7 agosto per il 45esimo ROF. Per completare il futuro auditorio Scavolini, il Comune corre con gli operai facendoli lavorare anche di notte. La fotonotizia del Corriere Adriatico si concentra sulla 4-0 che la Vispesero ha rifilato al Pescara, una vittoria bellissima per i biancorossi che per la prima volta, pensate, sono a tiro di salvezza nel senso che pur perdendo eventualmente la prossima partita e pur la squadra più vicina a sua volta vincendo, non riuscirebbe a colmare il gap dei 4 punti. Quindi è davvero stato un 4-0 esaltante ma soprattutto utilissimo per la classifica. Poi tante le notizie del Corriere Adriatico. È interessante l'ennesima ricostruzione sulla questione della discarica di riceci che andremo a vedere insieme. Poi tante altre notizie. Partiamo con la lettura del Corriere Adriatico per quello che riguarda le notizie regionali sempre molto interessanti. Il lunedì attenzione concentrata sulla apertura cosiddetta, come dice il titolo, della caccia ai lavoratori stagionali ma in 6 casi su 10 non si trovano. Già iniziate le selezioni di bagnini, camerieri e cuochi per la stagione estiva. Già perché non dimentichiamoci che siamo a poco più di due mesi dall'inaugurazione della stagione estiva a verso che avviene sempre a cavallo fra aprile e maggio. Poi quest'anno Pasqua è molto bassa quindi tante saranno le attività che partiranno sin dalla fine di marzo. Il Corriere Adriatico ci racconta poi dei trattori ma ci dà soprattutto la motivazione per snocciolare delle cifre decisamente interessanti. I trattori verso Bruxelles. 12.000 aziende agricole hanno l'esenzione IRPEF. Andiamo a vedere le cifre raccolte nella tabella del Corriere Adriatico. Oltre 12.000 le realtà agricole marchigiane fra coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali che potranno beneficiare dell'esenzione tutale dell'IRPEF agricola previste nel decreto Millel Proroghe. 100% la franchigia di esenzione ai fini IRPEF fino a 10.000 euro della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati. 600 le imprese che beneficeranno dell'esenzione al 50% prevista per la parte cedente. 10.000 euro fino a 15.000 euro. 15.000 ettari l'estensione nelle marche dei terreni soggetti a obbligo di tenere incolti. 4% del totale disposizione per ora su spesa dall'Unione Europea. Quindi davvero una regione come abbiamo sentito anche da diversi operatori con i quali abbiamo avuto occasione di parlare in tante occasioni quando realizziamo i nostri speciali, i nostri approfondimenti, una regione davvero votata all'agricoltura che ha riscoperto nella cura del territorio davvero una grandissima risorsa economica. E poi il Covid, giustamente il Corriere Adriatico lo definisce questo sconosciuto nel senso che solo 10 casi negli ospedali e quindi davvero la pandemia comincia davvero a essere realmente un brutto ricordo. A lavoro anche di notte per completare il Palace. Un'apertura in due step. Siamo alla notizia principale del Corriere Adriatico e vedete anche qui la tabella che raccoglie perfettamente le date dell'epopea che riguarda la realizzazione dell'auditorium del cosiddetto Palace Cavolini. Nel 2015 fu dato l'annuncio della ristrutturazione del vecchio Palace di Viale dei Partigiani. Nel gennaio 2018 è partito il cantiere, 3,6 milioni di finanziamento iniziale, 3,7 milioni il secondo stralcio del 2023, un costo finale che è stimato intorno a 10 milioni. Poi in questi giorni si stanno completando gli arredi e sono state installate 1.500 sedie. Il 29 febbraio ci sarà l'inaugurazione dell'auditorium. Considerate che le 1.900 sedie sono state sistemate. Secondo quanto riportato dall'articolo, più o meno sarà la capienza intorno ai 1.400-1.500 spettatori in occasione degli eventi che si svolgeranno al Palace Cavolini. Il vice sindaco, assessore alla bellezza Daniele Vimini, racconta e descrive ciò che sta avvenendo ma soprattutto tiene a fare un distingo in questo senso. Il 29 febbraio ci sarà la prima inaugurazione, quella pirotecnica spettacolare, con quindi tanti effetti speciali alla quale parteciperanno le autorità. Ci sarà la possibilità anche per una piccola parte di pubblico di intervenire. Sarà inaugurato quindi questo nuovo spazio, più che altro da un punto di vista facciale, ma certamente il 29 febbraio è simbolico perché sappiamo coincide con la data di nascita di Gioacchino Rossini ed è una data che, pensate, arriva effettivamente sul calendario solo una volta ogni quattro anni. Poi dopo l'inaugurazione, diciamo così, di immagine del 29 febbraio, la vera inaugurazione sarà ad agosto, il 7 di agosto, con la prima prova del ROF. Quindi soprattutto la struttura sarà dedicata a ospitare il Rossini Opera Festival in questa edizione straordinaria del 2024 Pesaro Capitale della Cultura. sarà realizzata un'opera in più, chiaramente poi ci sarà anche l'intervento del Teatro Rossini e della Vitri Frigo Arena con rappresentazioni, ma certamente sarà quello il momento in cui il Palace Cavolini vedrà davvero la luce per gli spettatori e per gli spettacoli che potrà ospitare. Considerate che da qui, più o meno a quella data, saranno realizzati anche tutti gli spazi accessori commerciali, quelli che sono destinati all'attività commerciale, fra le quali dovrebbe esserci una coppia e, se saranno superate alcune questioni burocratiche, anche una farmacia. Mascarucci e Totem a Best House e Immobiliare. Siamo a due vendite fatte dal Comune, importanti, perché hanno portato comunque 2 milioni e mezzo di incasso alle casse comunali. Si tratta dell'area della scuola Mascarucci e quella del centro del Totem di Villa San Martino. Quindi davvero un'importante entrata per il Comune. Considerate che queste due aree saranno riqualificate con la creazione di appartamenti e comunque unità immobiliari. Opere della A14. Per l'autunno i primi 10 ettari di bosco. Il consigliere comunale, Manuele Gambini, ha insistito per sapere esattamente di cosa si trattasse. L'assessore Enzo Belloni non si è fatto pregare e ha raccontato esattamente quali saranno questi interventi che sono collegati ai lavori della terza corsia, della realizzazione della terza corsia avvenuta tanti anni fa. Quindi fra questi la società Autostrade si è impegnata a realizzare nella città di Pesaro delle aree verdi. L'assessore Enzo Belloni dice esattamente quali sono 7 ettari di boschi che riguarderanno le seguenti aree, Borgo Santa Maria, Galoppatoio, Torraccia, Via Solferino, Via Santa Veneranda, Via Pirandello, Via Quasimodo, Via Bellavista. Superficie totale di 9,84 ettari, quasi 10 ettari considerando le superfici lorde. La titolarità della scelta sul quale piante mettere in questi parchi è del servizio tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche che ha approvato il progetto. Quindi è davvero un ulteriore abbellimento della città di Pesaro con l'arrivo di queste aree verdi che sono state così ben delineate dall'assessore. E poi per Piazza della Repubblica, qui siamo a Vallefoglia invece, sono stati stanziati 200 mila euro per la riqualificazione della piazza come annunciato dal sindaco Ucchielli. Ed eccoci alla questione di riceci. Il Corriere Adriatico è molto attento, è davvero sul pezzo in questo caso. Qui insiste sulle contraddizioni che sono nate all'origine proprio della progettazione e della discarica di riceci. Si pone due domande e chiede in primo luogo perché Marche Multiservizi ha deciso di procedere con il progetto di una maxidiscarica per rifiuti produttivi nel comune di Petriano attraverso un partner economico invece di operare in proprio avendo la professionalità e la capacità tecnica necessaria? Prima domanda. Perché ha scelto di collaborare con la ditta Ecoservizi di San Marino, fondata quattro anni fa da una sanmarinese ora novantenne impegnandosi a comprare la società di scopo Aurora di Rimini, costituita da questo partner meno di tre anni fa per la billezza di 25 milioni di euro, ovvero circa mille volte il capitale sociale della stessa Ecoservizi pari a 25 mila euro? E questa è la seconda domanda. Il Corriere Adriatico insiste sul fatto che ci sono delle incongruenze fra le tante dichiarazioni rilasciate a livello del Presidente della provincia Giuseppe Paolini e dell'assessore demandato Stefano Aguzzi che comunque in pratica si contraddicono l'un l'altro sulle responsabilità ma soprattutto il Corriere Adriatico punta l'attenzione su un verbale, il verbale della seduta di consiglio di Marche Multiservizi in cui si è decisa l'operazione e questo verbale che secondo gli articolisti del quotidiano anconetano sarebbe secretato. In realtà il Corriere Adriatico ha avuto accesso al documento né pubblica degli stralci sulla parte destra della pagina. Noi abbiamo sottolineato alcuni punti assolutamente essenziali. Nel verbale si legge che l'amministratore delegrato T. Viroli di Marche Multiservizi descrive in dettaglio tutti i contenuti dell'operazione e della documentazione contrattuale vincolante sostanzialmente definita fra le parte ed incluse in un accordo quadro e di un patto sociale e qui ci sono le cifre. Poi il documento riferisce che l'amministratore delegato ha descritto le principali caratteristiche tecniche dell'impianto progettato. Nell'atto si legge che l'amministratore delegato esprime la propria soddisfazione per l'esito delle negoziazioni. In poche parole sappiamo nei consigli di amministrazione è soprattutto il principale responsabile a parlare, a illustrare, a descrivere ciò che si sta facendo. Ovvio che ci siano continui riferimenti a T. Viroli che è l'amministratore delegato di Marche Multiservizi. Comunque questo verbale insomma conterrebbe tanti particolari sul processo che ha portato all'individuazione di quell'area per realizzare questa discarica che come sappiamo è davvero sotto l'occhio del ciclone ed è invisa da tantissimi. No alle antenne vicino alle case e via l'impianto del San Bartolo. I comitati di Fiorenzola e Cattabrighe insistano perché siano rimosse le antenne dalle aree interessate soprattutto quella di Fiorenzola e di Focara che ci ricordiamo l'anno scorso fu al centro di una grandissima polemica e la vediamo ritratta in questa foto. Mentre poi una buona notizia riapre il centro Salice e Gualdoni un aiuto alle famiglie in difficoltà. Siamo a Santa Colomba viene riaperto questo centro destinato e dedicato agli anziani soprattutto agli anziani che non sono in condizioni di avere una vita del tutto diciamo normale nel senso che hanno determinate problematiche. Questo centro sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30 con possibilità di frequenza a tempo parziale. Ne parla l'assessore Luca Pandolfi sempre molto molto attento alle politiche sociali della città di Pesaro. Da oggi è possibile presentare la domanda di ammissione all'ufficio ricoveri dell'edificio di Casa Aura in cui è ospitato il centro di urno in strada Santa Colomba. Informazioni e qui ci sono i dettagli per poter fare le domande per frequentare il centro Salice e Gualdoni. Quindi è comunque davvero un occhio attento a quello che è una problematica importante come quella dell'assistenza agli anziani in difficoltà. Tante le iniziative culturali a Pesaro nella giornata di oggi. Intelligenza artificiale a Villa Fastigi se ne parla con gli esperti. Poi abbiamo l'incontro nel ciclo denominato 7 all'Alexander questa sera e un'interessantissima iniziativa alla biblioteca di quartiere di Baia e Flaminia dove sarà possibile capire come vengono realizzati i testi in braille destinate agli ipovedenti o ai non vedenti. Quindi davvero è un'occasione per capire come vengono fatti questi testi. Non dimentichiamoci la bella iniziativa di circa un mese fa quando un ragazzo non vedente di Pesaro ha consegnato al Presidente della Repubblica la Costituzione in braille. Quindi davvero ha testimonianza di come serva grandissima attenzione per far sì che tutti possano accedere alla lettura e in questo caso pensate lo possono fare anche i non vedenti proprio grazie alla tecnologia in braille. E poi questa sera viene presentata e inaugurata la sede della lista civica Vieni Oltre in via Cialdini di politica. Ce ne occupiamo tanto in questo periodo con Rosini TV sarà sempre più forte. Poi il nostro interessamento a come andranno le cose in vista delle elezioni non vi nascondiamo che è davvero importante seguire la trasmissione amministrando verso le elezioni 2024 che va in onda tutti i martedì e quindi domani sera avremo la nuova puntata condotta da Luigi Benelli. Siamo a Canavaccio di Urbino, area di rilievo archeologico, scegliete un'altra superficie, qui è nella zona vicino a Urbino che i comitati intervengono per dire bisogna fare qualcosa per far sì che non venga rovinata quest'area destinata alle archeologie, lo vedremo dopo anche con il resto del Carlino. È una notizia di costume ma comunque è una notizia che ci rattrista un po' è morto Enrico Biagi che detto così nessuno praticamente sa chi è a prescindere dal fatto che comunque è una persona deceduta. In realtà è uno dei ristoratori più importanti e più famosi della nostra provincia. Era il ristorante Ciacci, quello interessato, il ristorante Ciacci che si trova in località Gallo di Petriano. Il ristoratore che l'ha fatto che l'ha creato, effettivamente appunto è deceduto, i funerali saranno nei prossimi giorni, ci uniamo anche noi di Rossini TV al cordoglio della famiglia, ma era davvero un personaggio straordinario. Girava, io me lo ricordo, per la sala di questo ristorante che è diventato famoso ed è tuttora famoso, ospita tantissimi pranzi aziendali, è un punto di riferimento della stessa Università di Urbino. Quindi Enrico Biagi girava appunto per la sala con il suo fare compito, vestito sempre benissimo, addirittura noi scherzandolo chiamavamo l'ingegnere ed effettivamente lo sembrava. È una mancanza davvero importante per la comunità di Gallo di Petriano. Considerate che il ristorante Ciacci ovviamente continua la sua attività nei locali che sono posti di fronte a quello che era il ristorante originale lungo la statale che taglia in due il centro di Gallo di Petriano ed è particolarmente curioso il fatto che ci sia una collezione di galli. Ovviamente essendo la località Gallo di Petriano le figlie che conducono il ristorante, le figlie di Enrico, hanno connotato da un punto di vista proprio ambientale il ristorante con tantissimi galli. Fano, attrazione per gli indirizzi sociali, cresce anche l'istituto economico. Le scelte dei 14 anni per le superiori hanno privilegiato il liceo Nolfi e il Battisti del Polo III. L'articolo poi dice che gli studenti fanesi prospettano per sé più un futuro in giacca e cravatta che in tuta, anche se in tuta si comincia a lavorare prima, mentre il percorso dei licei chiaramente molto più lungo per arrivare poi alla possibilità di lavoro. Le scelte dei 14 anni negli istituti di Fano. Liceo Nolfi a Polloni, vedete, con i vari indirizzi classico, artistico, linguistico, umanistico e sociale, economico-sociale, che ha il primato degli iscritti, delle scelte. Mentre il liceo scientifico Torelli segue con la sede di Fano e la sede di Pergola, mentre il Polo III tecnico è in coda con economico-battisti, tecnico-tecnologico, professionale Olivetti e professionale Volta. Quindi a Fano preferiscono i licei. Un'importante iniziativa realizzata dall'assessore alle biblioteche, Samuele Mascarin, con degli incontri dedicati al femminismo. È iniziato ieri questo ciclo di incontri al Memo di Fano. E poi una notizia di cronaca che ci riporta la pericolosità di una pratica sportiva che si chiama Down Hill. In realtà si tratta di buttarsi giù a capofitto con la bicicletta, in genere mountain bike, sia per le discese, ma non solo discese ardite e altrettante risalite. In questo caso siamo nella località delle Cesane, che è famosa davvero nella nostra provincia per essere il punto di ritrovo di tantissimi biker che si divertono a buttarsi giù dai dirupi. Lo fanno molto bene. Quando succede qualcosa che non era previsto, quando si vanno a cercare addirittura ulteriori difficoltà attraverso proprio dei trampolini, delle rampe di lancio, ecco che poi purtroppo succedono gli incidenti sedicenne grave, trauma cranico e fratture, soccorso dall'eliambulanza. Quindi davvero una brutta storia per questo ragazzino che probabilmente la prossima volta ci penserà con più attenzione nel momento in cui deciderà di buttarsi giù con la bicicletta. Poi schianto, causa danni e scappa, rintracciato dai vigili. Siamo a Rosciano di Fano, pensate, ha praticamente rischiato di distruggere un benzinaio, proprio una struttura posta a lato della strada. Non solo ha fatto danni, addirittura ha fuggito, credendo di non essere rintracciato, è stato ovviamente rintracciato e adesso gli toccherà pagare tantissimi danni. E poi siamo a Colli al Metauro, pensate, rubano in sacrestia quattro calici dorati. Ci si attacca veramente a tutto. Hanno rotto con una mazza una porta di vetro e il parroco ovviamente dice al di là del furto è anche un'offesa a Dio. Pergola, capitale per una settimana della cultura. Si inaugura la settimana del centro dell'entroterra pesarese che vedrà l'inaugurazione di tre installazioni, poi con la mostra Loro Blu da sabato, grande attenzione ovviamente ai bronzi dorati di Pergola, tantissime le iniziative in questa settimana nel centro sotto il Monte Catria. E poi le strade, ora Paolini mostri i documenti. La minoranza vuole verificare le richieste del sindaco e le scelte della provincia. Siamo a Terre Roveresco dove c'è una polemica innescata dal sindaco che dice che le strade sono indecenti. Ci possiamo credere considerando qual è lo stato medio delle strade della nostra provincia e purtroppo anche dei centri abitati. Comunque adesso ci sono dei comitati che ne vogliono sapere di più e quindi stanno facendo delle interrogazioni per capire in quale modo sia fondata o meno la richiesta del sindaco. Velocemente, visto che lo sport era argomento principale della locandina anche del Corriere Adriatico, andiamo a vedere come la Vispesaro abbia travolto il Pescara. 4-0, gara spaccata da Pucciarelli al 27esimo, poi doppietta di Carlson. Considerate che Carlson è il bomber della Vispesaro, ha addirittura già segnato 10 gol quest'anno, quindi finalmente la Vispesaro ha un bomber che effettivamente può pensare di trascinarla verso la salvezza. Sappiamo benissimo che quando in una squadra c'è un giocatore capace di realizzare in una stagione, 10-15 gol, cambia tutto, l'attacco per certi versi trova la finalizzazione ed ecco che appunto nel caso della Vispesaro questo è avvenuto ieri, pubblico invisibilio, 1500 spettatori, Albenelli rotto l'incantesimo, si è tornati a vincere in casa dopo che non lo si faceva dal 22 ottobre, quindi davvero tante cose buone per la Vispesaro che adesso andrà a giocare a Re Canati nel prossimo weekend e come dicevamo prima, per la prima volta, guardando la classifica, è a distanza di sicurezza dalla quintultima, la Spal, che è la prima delle squadre che sono in questo momento nei play-out. Per quanto riguarda la serie D, buon pareggio del Fossombrone contro la forte San Benedettese, il Fano giocherà martedì, chiudiamo il Corriere Adriatico e spostiamoci sul resto del Carlino. Poi chiaramente lo sport lo approfondiremo più avanti, abbiamo una segnalazione della regia, buongiorno, buongiorno da Alessandre Chiara, fatemi vedere, di ritorno da Vienna, vi seguiamo dal treno addirittura, grazie, grazie, grazie a tutti gli amici che sono in questo momento su Facebook, avete visto, mi sono dovuto sperticare per riuscire a leggere i nomi, Luca siete in tanti, ma è bellissima questa segnalazione del ritorno da Vienna di questi due che ci stanno seguendo in diretta un grazie e immaginiamo quanto siate curiosi di sapere quello che avviene appunto nella nostra provincia. In realtà le notizie importanti, come avete visto, sono di una certa origine, per certi versi ne siamo contenti perché quando mancano i fatti di cronaca, quelli pesanti, effettivamente la nostra rassegna stampa, la nostra edicola scorre veloce senza doverci soffermare più purtroppo su questioni davvero drammatiche, non è il caso di oggi. E infatti anche il resto del Carlino lo testimonia, considerate che il principale articolo del resto del Carlino parla di un tutto esaurito alla trattoria sociale, che sarebbe proprio quella del centro Miralfiore, che andremo a vedere, eccola qui, utopia, quando la tratteria è sociale, Landini a pranzo con i volontari. Considerate che c'è stata la visita del segretario della CGL a Pesaro per diverse iniziative, è andato a mangiare all'utopia al centro Miralfiore, quindi davvero trattoria sociale utopia all'interno del parco Miralfiore, sta già sbancando. L'altra sera i ragazzi hanno cucinato per la bellezza di 300 persone, mentre a pranzo sono stati serviti 150 pasti ed è appunto presenziato il segretario nazionale della CGL Maurizio Landini. Considerate che ci sono dei numeri interessanti, i conti per quanto riguarda utopia parlano di 25.000 euro già incassati solo nel primo mese di attività e pensate che al progetto sono iscritti 60 giovani disabili di cui 20 in tirocinio, altri 5 inseriti nel finanziamento dell'ambito sociale. Utopia fa i conti e pensa che si possa arrivare anche in un anno a incassare 300-400 mila euro, quindi davvero un aiuto importantissimo per questa comunità ed è una iniziativa che fa onore al presidente della cooperativa della Ollus Gulliver, Andrea Boccanera, che davvero ha dato vita a una questione molto molto importante. Abbiamo visto che Landini poi ha partecipato anche alla proiezione del film La Grande Pica, che era stato proiettato a Loreto qualche settimana fa e che avevamo seguito anche noi con Rossini TV, è stato riproposto a Vallefoglia e il sindaco Chielli ha portato alla visione di questo film anche Landini. Altre notizie che riguardano Pesaro, il saluto del primario di radioterapia Feisal Bucheila, che va in pensione a 70 anni con un rimpianto e il rimpianto è l'azienda Marche Nord andava difesa. È molto interessante questo articolo, questo saluto di questo medico che davvero con le sue parole ci fa capire quanto sia importante la professione medica, quando è interpretata nella maniera corretta e nella maniera giusta, che è poi quella prevista proprio dal famoso giuramento di Ippocrate, che ogni medico deve fare nel momento in cui riceve la laurea. È stato un privilegio e un onore servire come medico tanta gente. Ringrazio ogni singolo membro del personale, ma soprattutto voglio ringraziare i nostri pazienti che ci hanno affidato le loro vite e la loro fiducia. Anche se mi ritiro dalla mia posizione, il mio impegno per la cura e il benessere dei pazienti non cesserà mai. Ho girato molto e verificato tante cose, concetto importante questo che stiamo per dire. Il nostro sistema sanitario nazionale è una certezza assoluta, senza eguali, ma va difeso ad ogni livello. Sicuramente mancano i medici, forse anche perché gli errori compiuti negli decenni scorsi si stanno evidenziando. Mangano soprattutto, dice il primario, medici di base. Siamo sottoposti a uno stress notevole e noi nelle Marche non avremmo avuto bisogno di un ulteriore stress con la chiusura di Marche Nord. Quindi è una presa di posizione importante quella dell'ex primario, appunto, che va in pensione per raggiunto limite di età 70 anni, ma le sue parole ci fanno capire come davvero il servizio sanitario nazionale sia un tesoro da preservare a tutti i costi nel nostro paese. Per quanto riguarda il San Domenico, che sarebbe l'area dell'ex mercato delle erbe, vedete c'è un rendering del resto del Carlino che ci fa vedere come verrà nel momento in cui saranno conclusi i lavori. Speriamo che sia davvero così bello. È proprio per questa ragione che l'amministrazione ha dato l'incarico per un importo di 10.000 euro a una società archeologica di Riccione di vigilare i suoi lavori perché ci saranno comunque anche diversi scavi. Poi a Villa Fastigi, dove il Carnevale si svolge un po' come a Milano, il Carnevale Ambrosiano, che in realtà prolunga di qualche giorno i festeggiamenti del Carnevale. Qui siamo al Carnevale Ambrosiano, fra virgolette, di Villa Fastigi. Tantissime persone in piazza, addirittura gli organizzatori parlano di 10.000, quindi davvero una cifra quasi paragonabile a quella dei corsi mascherati di Fano. Tantissime persone, ben sei carri hanno sfilato nel centro di Villa Fastigi. Comunque vedete, effettivamente c'era tantissima gente. Ovviamente gli organizzatori sono contenti della riuscita della manifestazione, favorita anche dal bel tempo. E poi siamo a Fano. Il Movimento a 5 Stelle all'attacco del vice sindaco Fanesi. Dicono questi tre consiglieri dei 5 Stelle, che sono Giovanni Fontana, Tommaso Mazzanti e Francesco Panaroni, ci raccontano che secondo loro il vice sindaco Fanesi ha fatto delle manovre abbastanza torbide, soprattutto sulla cementificazione di alcuni quartieri e ci si riferisce soprattutto a Paleotta e Poderino. Sembra che in questi quartieri ha anche la trave, sembra che in questi quartieri non si poteva costruire se non ci fosse, nel momento in cui non c'erano parcheggi, c'è stata un'aderoga a questa cosa, parcheggi per le macchine, cioè la possibilità di fare parcheggi autonomi per le macchine, poi c'è stata un'aderoga. Questo è tornato un divieto, secondo loro, nel momento in cui non si costruisce più. Cioè in poche parole è stata una presa di posizione tardiva quella del vice sindaco, secondo questi del Movimento 5 Stelle, soprattutto dicono che magari questa cosa adesso si sta verificando in altri quartieri di Fano dove effettivamente c'è in atto un vero e piano importante di riqualificazione edilizia su tanti aspetti. Il problema è che secondo loro qui si è andate a toccare delle ville, delle case che in realtà non dovevano essere rovinate, fra virgolette, secondo loro, perché erano magari anche di bellezza storica. Ci stiamo preparando a Fano all'arrivo del Giro d'Italia. Il sindaco incontra le associazioni per gli eventi, non dimentichiamoci, prossimo 16 maggio, arrivo del Giro d'Italia, tappa di 183 chilometri da Martinsicuro. Ci saranno tantissime iniziative per tutta la settimana. Mancano poco più di due mesi a questo importante appuntamento per Fano. E come vi avevamo anticipato, Canavaccio, zona archeologica, Verdi, PD e Viva Orbino, la variante va annullata. Bisogna tutelare l'area archeologica di Santo Stefano di Gaifa, Canavaccio, lasciando la destinazione agricola e annullando la variante votata in Consiglio Comunale il 21 dicembre, che la trasforma in zona industriale. Quindi appello al fatto che in quell'area, che è una zona archeologica, non vengano costruiti capannoni per l'industria. Chiudiamo il fascicolo del Corriere del Resto del Carlino delle Marche. Ci portiamo sul fascicolo sportivo del Resto del Carlino, che ci permette di fare la veloce panoramica sui principali avvenimenti, anche nazionali. Foto dedicata al nuovo re del tennis, anche se per ora è numero 3, ma ha guadagnato un'ulteriore posizione nel ranking. Yannick Sinner, che ieri ha vinto a Rotterdam il suo dodicesimo titolo e a questo punto comincia davvero la caccia al numero 1, anche se noi sappiamo perfettamente che il percorso è lungo e già quello che sta facendo questo ragazzo è straordinario. Il calcio con la vittoria del Bologna a Roma, 2-1, una vittoria bellissima firmata dal fuoriclasse bolognese Zirk Zell, olandese, che vedete con i suoi capelli decisamente tipici ha firmato il gol della vittoria del Bologna. Andiamo a vedere i risultati della Serie A della venticinquesima giornata. Torino-Lecce 3-0, Inter-Salernitana 4-0, Napoli-Genua 1-1, Verona-Juventus 2-2, Atalanta-Sassuolo 3-0, Lazio-Bologna 1-2, Empoli-Fiorentina 1-1, Udinese-Cagliari 1-1, Fiorentina-Frosinone-Roma 0-3, Monza-Milan clamoroso 4-2. Classifica Inter a 63 punti, più 9 sulla Juventus, che potrebbero essere addirittura 12 se l'Inter dovesse vincere il recupero con l'Atalanta, che comunque sta giocando molto bene, 5 vittorie consecutive, non sarà facile poi a seguire Juventus-Milan-Atalanta e proprio il Bologna. La Vis-Pesaro, che viene definita super dal resto del Carlino, una super Vis-Pesaro, disintegra il Pescara, Pucciarelli-Carlson-Dapozzo, poker, due gol di Carlson. Abbiamo sottolineato il fatto che ieri non era presente nella panchina del Pescara il grande Zeman, l'allenatore che quest'anno è di nuovo a Pescara, che ricorderemo come una decina di anni fa dette davvero vita a una squadra dei miracoli dove giocavano Verratti, Insigne e altri giocatori straordinari. Il Pescara ha preso 4 gol dalla Vis-Pesaro, consideriamo che è squadra di alta classifica. Banchieri, una gioia vedere i ragazzi così, finisce con i giocatori della Vis-Pesaro a far festa con i propri tifosi, mentre invece quelli che erano venuti da Pescara contestavano la squadra. Ovvio hanno perso 4 a 0. Il basket nazionale ci porta alla Coppa Italia, che è stata vinta a sorpresa, pensate, dal Napoli. Napoli col paccio dopo 18 anni affondata la corazzata Milano, la Cenerentola alza la Coppa Italia. Quindi è proprio partendo da questo risultato che Elisabetta Ferri, la nostra Elisabetta Ferri sul resto del Carlino, dice che bisogna sempre crederci, insegni la lezione di Napoli, che è riuscita a vincere una partita straordinaria e a portare a casa un trofeo così importante come la Coppa Italia, partendo addirittura da ottava nella graduatoria del Final Four di Coppa Italia, duelle, bisogna sempre crederci, la Gevi spezia il due polio e vince la Coppa col suo bel progetto, Pesaro si ispiri a loro, davvero, magari. Sempre basket, qui siamo in serie B regionale, il Loreto stravince, guarda in alto, il Pisauro nonostante la sconfitta si è comunque salvata. Quindi mentre la squadra del Loreto, l'Ital Service, dove sappiamo e c'è il presidente Pizza, che ha un ruolo importantissimo, andrà a concorrere per provare il salto di categoria verso la Serie B nazionale, il Pisauro nonostante la sconfitta si è comunque salvata. Quindi davvero il basket minore pesarese si fa sentire e non dimentichiamoci giustamente anche l'altra squadra pesarese, il Bramante. Appunto, Yannick Sinner, colazione da numero tre del mondo, battuto dei minori, Rotterdam è suo e ora vuole conquistare l'America. Rotterdam è suo, chissà se questo maschile è corretto, comunque al di là di questo poi c'è una interessante intervista a Nicola Pietrangeli che era stato numero tre del mondo quando non c'era la classifica automatica, diciamo computerizzata, dei punti ATP, bensì quando era un giornalista a dire chi secondo lui era il più bravo. Ma parliamo degli anni 60. Chiudiamo il resto del Carlino Sport, andiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti di Rossini TV per la giornata, cominciamo a vederli e abbiamo l'appuntamento con il fisioterapista Francesco Maria Guerrini a questa sera CECAP Obiettivo Salute che come sempre va in onda alle 21.20 del lunedì, poi le tante repliche della settimana, un'intervista interessantissima perché pensate questo fisioterapista, questo professionista ha vissuto poi un'esperienza davvero traumatica nella sua vita, ha vissuto in prima persona il terremoto dell'Aquila, ce lo racconta in questa intervista e ovviamente poi fa anche tutti i suoi riferimenti alla pratica medica che attua, cioè proprio la riabilitazione posturale. Fisioradi Medical Center da anni collabora con Rossini TV nell'ambito di queste trasmissioni, CECAP Obiettivo Salute, è un progetto che va avanti da tre anni e piace davvero tanto, appuntamento questa sera alle 21.20. Abbiamo poi le notizie di Rossini News, prima edizione alle 19.30 e poi tutte le repliche 20.30, 23.30, mezzanotte e mezza e poi domattina alle 6.30 e l'ora di pranzo alle 13.30, vedete il nostro team di giornalisti, salutiamo anche il nuovo ingresso Edoardo che davvero siamo contenti sia venuto qui a Rossini TV con la sua esperienza, la sua simpatia, la sua bravura e soprattutto la sua attenzione ai fatti quotidiani. Rossini News alle 19.30 e domani sera, amministrando, andrà a Urbino, andrà a Urbino perché anche a Urbino ci sono tanti movimenti e vedete saranno due i protagonisti del confronto politico, Roberto Cioppi, assessore al turismo di Urbino, liberi di cambiare, e Oriano Giovannelli, coalizione per Scaramucci, sindaco del Partito Democratico. Domani sera alle 21.20, la settimana scorsa abbiamo esplorato Fano. Questa volta andremo a Urbino, la nostra trasmissione davvero ci sta facendo conoscere tutti i principali protagonisti politici della Kermes che fra pochi mesi sarà importantissima per ridefinire l'assetto delle amministrazioni locali. Ovviamente più andremo avanti e più riusciremo a entrare anche nel merito proprio dei confronti diretti fra i candidati sindaci perché comincerà a stringere il tempo e vedrete che ce ne saranno davvero delle belle. Vi lasciamo alle previsioni meteo, è iniziata la settimana di febbraio, oggi è 19, buona settimana a tutti, appuntamento domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini, ancora una volta buona giornata e buona settimana a tutti voi.